Una stanza della legalità dedicata ai giovani, quanto è importante in un contesto sociale frammentato come quello dell'Aquila? Io penso che sia importante dappertutto, per l'abbinamento di due termini, quello della legalità e quello dei giovani. Il motivo fondamentale è uno, attraverso l'istruzione della cultura passa un'educazione alla legalità. Sono gli unici strumenti di cui disponiamo e sono gli unici strumenti che ci permettono di togliere al concetto di legalità questa patina di diffidenza che purtroppo spesso la circonda nella società contemporanea. Che l'iniziativa venga dalla Polizia di Stato, cioè che ci sia un avvicinamento al termine dell'istruzione della cultura da un'istituzione tradizionalmente repressiva, è un segnale largamente positivo. Che avvenga all'Aquila, la città che è stata profondamente ferita e che si riprende con fatica ma con tenacia dalle macerie del terremoto, è doppiamente positivo. È un primo passo, un piccolo grande primo passo. Diciamo che la questura ha iniziato due anni fa un percorso di educazione alla legalità e questa stanza vuole essere un po' la sintesi di questo viaggio dove si possano ripetere permanentemente tutte quelle iniziative dedicate alla legalità e viverle in questo spazio. Spazio che è dedicato ai figli dei dipendenti essenzialmente perché sono coloro i quali frequentano con più assiduità la questura. Ma è aperta anche ai giovani che per qualsiasi motivo vengano in questura o debbano attendere i loro genitori mentre sono in questura ed è uno spazio dove attraverso libri, video tutorial, giochi di società si possa vivere sia uno spazio ma anche una relazione sana improntata alla legalità. La questura smart è il concetto di infrastrutture smart, vuol dire infrastrutture che abbiano un impatto ambientale sostenibile. noi ci produciamo l'energia elettrica che consumiamo e che abbiano spazi che siano identitari. Abbiamo costruito all'interno di questa questura persino una piccola cappella dove le persone possono ritrovare anche un momento di conforto spirituale e che siano socializzanti e questi spazi, questo in particolare, è quello dove si socializza educandoci alla legalità.